Da noi comincia l'estate, in Antartide si festeggia il sostizio d'inverno. Buio e freddo hanno toccato l'apice e ora si aspetta il ritorno della luce con un bagno nelle acque gelate. A compiere l'impresa, con una temperatura esterna di quasi meno 30 gradi, sono stati alcuni membri di tre spedizioni australiane nel continente ghiacciato per celebrare un giorno importante a quelle latitudini. Da oggi le giornate, che in questo periodo al Polo Sud hanno pochissime ore di luce, inizieranno ad allungarsi.